Musica Buongiorno dalla redazione di ETV domenica 27 agosto come sempre insieme 7 giorni su 7 per il consueto appuntamento con la nostra rassegna stampa per dare uno sguardo ai principali quotidiani del nostro territorio e non solo e allora intanto vi ricordo dove ci potete vedere ovviamente sul canale 12 in televisione ma in contemporanea siamo anche in streaming sulla nostra pagina facebook sull'app di ETV e sul nostro sito www.etvmarche.it sito sempre aggiornato con le ultime notizie allora vediamole insieme in primo piano la cronaca con un episodio che è avvenuto ieri a Nel Pesarese un uomo di 38 anni con problemi psichici che aveva rifiutato il ricovero coatto si è barricato in casa per ore minacciando oltre che di togliersi la vita di far saltare il palazzo e di dar fuoco al palazzo una trattativa che è durata per ore e si è conclusa solo nella notte quindi sembra che insomma l'uomo poi sia stato fermato dalle forze dell'ordine e non ci sia poi sul posto nessun ferito e questa è una conclusione positiva ma ora ovviamente poi ci sarà spazio anche per la medaglia d'argento di Sofia Raffaelli ne parleremo però poi leggendo anche i giornali allora iniziamo subito Corriere Adriatico lo apriamo insieme prima pagina del Corriere di Ancona in primo piano la fotonotizia dedicata alle vacanze di Mancini in spiaggia oggi è ufficiale Mancini è CT dell'Arabia Senigallia una giornata di relax sulla spiaggia appunto di Senigallia per l'ex CT azzurro Roberto Mancini oggi arriva l'annuncio sarà sulla panchina dell'Arabia Saudita questo per quanto riguarda l'ex CT della nazionale ma a proposito di spiagge e di turismo si parla anche su Corriere di Suite e Resort il turismo di qualità, quello del lusso, quello delle 5 stelle c'è proprio un approfondimento dedicato a Spa, Resort e Suite il turismo a 5 stelle, hotel di lusso a Nomana un altro in arrivo a Sirolo così porteremo nuovi target insomma se una fascia turistica non va si cerca di puntare su quella di qualità superiore questa è insomma l'intenzione da parte di chi si occupa di recettività nella nostra regione ma in primo piano poi anche la città di Ancona Ancona sbloccata all'impasse stiamo parlando appunto del teatro data 0 il 15 settembre con una pista teatrale atteso Alessandro Preziosi anfiteatro aperitivi e show in arrivo ad Ancona tour guidati per rilanciare il sito storico in occasione della festa del mare che scatterà tra pochi giorni per l'esattezza tra 6 giorni e adesso vediamolo insieme questo approfondimento con l'anfiteatro che riapre c'è il via libera annuncia il Corriere Adriatico e c'è anche proprio una tabella che mostra gli eventi 15 settembre data 0 e quindi sarà una data importante per la città di Ancona grazie a questo sblocco arrivato dalla soprintendenza ultimi dettagli però domani con il Ministero come dicevamo il nome in pole position per la pista teatrale è quello dell'attore Alessandro Preziosi questo insomma un evento importante per la città di Ancona che dicevamo si prepara tra 6 giorni anche alla festa del mare ma ora vediamo anche insomma ciò che sta facendo il sindaco Daniele Silvetti sempre su Corriere di Spalla la promessa del sindaco di Ancona Silvetti via le fioriere dal corso sono le fioriere quali? quelle di Corso Garibaldi ritenute da molti orrende l'abbiamo detto in campagna elettorale lo faremo presto dice il sindaco che aggiornà la sua roadmap a settembre nascerà la commissione per il decoro nelle vie del centro e cambieremo l'arredo urbano tanto verde più illuminazione e per i portici di Piazza Cavour e Galleria Dorica grandi firme come a Galleria Cavour a Bologna questo l'annuncio del sindaco di Ancona poi ancora invece siamo ad Ancona per le notizie che ci arrivano in fondo pagina tra le brevi di cronaca getta la droga sotto l'auto e picchia due carabinieri siamo a Falconara è stato arrestato un pusher tunisino recidivo calci e botte ai militari li ha mandati all'ospedale ma si parla anche sempre tra le brevi del degrado in via Manzoni che è shock noi abbandonati dicono gli abitanti e a proposito di degrado anche il resto del Carlino parla insomma dei problemi della città di Ancona allora andiamo a cercare di aprire la prima pagina eccola qua la apriamo insieme il resto del Carlino prima pagina di Ancona in primo piano la fotonotizia dedicata a quella che è definita la città fantasma nessun evento e centro deserto viaggio nella notte di ubriati e sbandati e poi infatti l'approfondimento che ha scusate realizzato il resto del Carlino eccolo qui la grande bruttezza questo è il viaggio con tanto di diverse foto che documentano lo stato della città dal passetto a corso Garibaldi in un capoluogo senza eventi dove c'è chi si ferma per dirci qui la sera c'è da avere paura ecco alcune immagini desolanti del centro storico nel reportage fatto nella notte anconetana il cuore cittadino è letteralmente deserto in mano a ubriachi e sbandati che vagano per la città tra liti e scene poco edificanti ecco insomma la città è veramente deserta a vedere queste foto che ha postato il resto del Carlino nel viaggio che ha compiuto nella notte Dorica e torniamo però in prima pagina sul resto del Carlino per vedere anche le altre notizie e allora come possiamo leggere insieme in primo piano l'omaggio a Gimbo Gianmarco Tamberi eroe dorico il comune ora pensa al tributo ieri la festa di Gianmarco Tamberi con i suoi amici che emozione la festa a Camerano ma in primo piano anche un mistero mamma e figlia sparite da un mese nessuna traccia delle due donne scomparse da Castelplagno le amiche in ansia Michela era stanca e provata ecco l'articolo all'interno del resto del Carlino la preoccupazione delle amiche appunto per questa mamma e figlia che sono scomparse da oltre un mese e non si sa che fine abbiano fatto i loro telefoni sono muti da giorni i familiari sono in ansia non sono più riusciti a mettersi in contatto con loro in alcun modo le due donne entrambe maggiorane disoccupate non avrebbero inviato messaggi né chiamate a nessuno dei loro conoscenti e dunque i familiari preoccupati si sono rivolti alla polizia per denunciare la scomparsa escludendo infatti che si possa trattarsi di una semplice vacanza muti anche i social network delle due donne quindi non si sa che fine abbiano fatto scomparse senza lasciare traccia questo il giallo di Castelplagno come titola il resto del Carlino ed ora invece velocemente passiamo anche questa è ancora la prima pagina del Corriere Adriatico di Ancona come potete vedere spazio per la giovanissima Sofia Raffaelli che appena 19 anni porta un'altra medaglia a casa il terzo argento ai mondiali di ginnastica ha vinto già diverse medaglie e questa è un'altra nel suo straordinario palmares ma ora dicevamo ci spostiamo alla prima pagina del Corriere Adriatico di Ascoli in primo piano il caro benzina colpisce l'azienda sanitaria territoriale spese in aumento del 40% per il carburante rispetto a 3,6 milioni di euro dell'anno scorso le ambulanze fanno la spola tra i due ospedali per il trasporto dei pazienti e delle provette dunque un grave problema come possiamo vedere per quanto riguarda l'azienda sanitaria territoriale di Ascoli nel 2003 annuncia il Corriere Adriatico è già previsto un aumento del 40% sono tantissimi 3,6 milioni di euro per il trasporto tra gli ospedali Mazzoni e Madonna del Soccorso il tragitto è di 33 km tra le due strutture sanitarie molti dei quali sulla superstrada Ascoli mare dunque un vero e proprio allarme ma torniamo sempre in prima pagina il post sisma dispalla acqua santa di mezza il numero degli sfollati quasi 400 pratiche istruite oltre 200 cantieri aperti poco meno di 200 cantieri chiusi e il contributo di autonomo sistemazione dimezzato a 7 anni dal terremoto i risultati ottenuti dal comune di acqua santa termine nella ricostruzione consentono di guardare al futuro con maggiore fiducia e rinsaldare una comunità che non ha mai mollato nessuna comunità colpita dal sisma come quelle che vi abbiamo raccontato noi negli anni ha mai mollato ma di certo non è facile come vi abbiamo sempre raccontato anche se la ricostruzione va avanti poi uno sguardo anche alle brevi di cronaca in primo piano a San Benedetto la graia invasa dal fango ripulita entro fine mese il vice sindaco Capriotti risponde a Fratelli d'Italia dopo la bomba d'acqua che ha colpito la riviera e poi sempre per la cronaca una brutta notizia una quindicenne si tuffa dagli scogli e si fa male a San Benedetto arriva l'ambulanza questo insomma per quanto riguarda il Corriere Adriatico ma ora ci spostiamo insieme a leggere la prima pagina del resto del Carlino di Ascoli e Fermo che quindi riunisce come sempre le due province Ascoli e Fermo in primo piano lo sport seconda sconfitta di fila per l'Ascoli che resta a zero punti il picchio non vola titola il Carlino ma poi in primo piano anche il parcheggio il parcheggio selvaggio in centro ad Ascoli auto abbandonate persino sulla soglia della chiesa gioiello insomma un grave problema quello dei parcheggi tra auto e asfalto Santa Maria intervina sparcheggiano anche sulla soglia della chiesa questa la denuncia incredibile quotidianità alla fine di Corso Trento e Trieste turisti basiti cercano di fare foto tra le macchine lasciate in mezzo alla piazza mesi di lavori e disagi quel che resta di quest'area è solo una zona dedicata al posteggio delle autovetture questa insomma la denuncia lanciata dal resto del Carlino di Ascoli ma poi lo spazio è dedicato dal Carlino anche ai funerali della piccola Soleil morta in Albania un'infezione fatale palloncini lacrime ai funerali di Soleil allora andiamo a vedere eccola qua anche in cronaca nazionale infezione polmonare dopo il covid così sembra secondo le prime risultanze stroncata in vacanza 19 mesi la piccola era con i genitori in Albania dai parenti della mamma per lei si era attivato anche il consolato ma non c'è stato nulla da fare come vi abbiamo raccontato anche noi nei giorni scorsi un malore poi la corsa in ospedale ma la bimba continuava ad aggravarsi e purtroppo poi la terribile notizia che ha veramente gettato tutti nella disperazione un intero paese e non solo la piccola infatti viveva a Monte Frandone nella scolano ieri funerali nella chiesa di Centobuchi con l'abbraccio del paese alla famiglia l'abbraccio di una comunità in lacrime per una morte assolutamente inspiegabile ed ora invece torniamo sul Corriere Adriatico e ci spostiamo però a fermo in primo piano Balneari agosto fa miracoli dunque buone notizie per quanto riguarda il turismo nuovo assalto nell'ultimo weekend del mese gli operatori soddisfatti per il traino degli eventi turisti appiedati polemica però sulla carenza di taxi ma a Porto San Giorgio bastano e avanzano si dice e poi si ricorda anche l'appuntamento con la notte rosa partita ieri sera alla Kermess del giorno club per la notte più rosa coinvolti tutti i quartieri di Porto Sant'Elpidio premiate anche le vetrine dunque un grande aiuto per il commercio ma c'è spazio anche per la cronaca in taglio basso vola di notte nel pozzo salvato un agricoltore paura in campagna Sant'Elpidio a mare e a Ponzano un trattore finisce nel fossato l'episodio avvenuto l'altra notte l'allarme nei campi di prima la morte del sessantenne di Monsanpietro precipitato in un diruppo soccorso l'altra notte però un anziano di Sant'Elpidio a mare che era finito in un pozzo salvato dai vigili del fuoco e poi un altro incidente ieri mattina a Ponzano con un agricoltore bloccato in un fossato e curato all'ospedale dunque arriva questo allarme per quanto riguarda gli agricoltori che lavorano nei campi e adesso restiamo sempre nel Fermano ma ci spostiamo come sempre a leggere insieme ciò che racconta il resto del Carlino che come dicevamo dedica la prima pagina ad Ascoli e Fermo per cui in primo piano una notizia di cronaca che arriva dal Fermano anni di violenze scattano i divieti il giudice ordina un 42enne di stare ad almeno 500 metri dall'ex moglie che ora si è rifatta una vita e allora apriamola questa notizia che ci porta all'interno delle pagine del Carlino il divieto di avvicinamento decretato dal giudice ha l'obbligo di mantenere una distanza di almeno 500 metri dalla vittima inoltre l'uomo non può comunicare con lei attraverso qualsiasi mezzo lui è rimasto nel Fermano la donna in provincia di Torino dunque a livello giudiziale qualcosa si muove ma spazio per quanto riguarda il Fermano anche a un evento di spettacolo ecco il reality Focori Valley Temptation Island alla Fermana coppie fittizie tanta ironia l'idea è di Matteo Colibazzi un medico con la passione per il teatro un progetto nato quasi per scherzo che però sta esplodendo racconta lui stesso tra le mani visto che siamo arrivati a 12.000 follower regaliamo un po' di divertimento dunque nuove idee questo è un format consolidato che partirà a breve adesso torniamo sul Corriere Adriatico e apriamo insieme la prima pagina di Macerata in primo piano la ciclabile una nuova pista per il Palace Nascerà un percorso dedicato a pedoni e bike che andrà dall'area di Fonte Scodella ai Giardini Diaz l'assessore Marchiori cantiere in corso di aggiudicazione sarà realizzato anche un sottopasso dunque buone notizie perché per chi ama la bicicletta e non solo collegherà dicevamo l'area del Palace Sport con i Giardini Diaz i lavori valgono 2,1 milioni il cantiere spiega l'assessore Marchiori è in fase di aggiudicazione tra l'altro verranno sistemati anche i sottopassi all'ex Park Si e in via Ferrucce poi è previsto un nuovo sottopasso in prossimità della galleria obiettivi dice l'assessore restituire la fruibilità dell'intera zona ai cittadini diminuire la presenza di criminalità anche insomma dando ai cittadini la possibilità di usufruire di più di questa bellissima zona di Macerata ma ora torniamo di nuovo in prima pagina per leggere anche le altre notizie brevi che ci arrivano dal maceratese in particolare passiamo alla cronaca e ci spostiamo a Tolentino tenta il furto in una casa inagibile per il terremoto 55enne scoperto dai carabinieri la segnalazione era partita da un cittadino aveva con sé strumenti idonei allo scasso e aveva tentato di rubare in una casa inagibile dopo il sisma i carabinieri però lo hanno scoperto ed è stato denunciato e finito così nei guai un 55enne residente in zona la segnalazione dicevamo è partita da un cittadino che aveva visto l'uomo all'interno di una casa inagibile e sempre per la cronaca l'allarme attenzione l'allarme della croce rossa attenzione in guardia ci sono falsi volontari dunque dopo gli impiegati delle poste arrivano anche i falsi volontari della croce rossa invitiamo tutti a prestare maggior attenzione a chi si rivolge a noi ma poi torniamo a macerata anche per parlare di spettacolo per quanto riguarda la città Sibillini ed intorno le auto dicevamo danno spettacolo musica e auto d'epoca un mix particolare che ha colpito nel segno il pienone del concerto di Mr. Rain allo sferistelio da un lato la sfilata di vetture storiche di Sibillini ed intorno dall'altro hanno portato tanta gente nel cuore del centro cittadino a macerata offrendo un bel colpo d'occhio e poi ovviamente buoni affari a bar gelaterie e ristoranti dunque insomma macerata continua a vivere dopo il termine degli spettacoli allo sferistelio vanno in scena anche concerti e altre manifestazioni e adesso restiamo a macerata ma ci spostiamo sulle pagine del Carlino in primo piano la scuola ovviamente anche qui la fotonotizia che è dedicata al concerto di Mr. Rain allo sferistelio di cui vi abbiamo parlato prima ma poi il tema è quello della scuola assunti 200 docenti ma non bastano nonostante le missioni il ruolo resta l'emergenza servono almeno 500 supplenti questa è insomma la richiesta che arriva ma eccola qui si tratta i nuovi assunti sarebbero appunto 200 sono vincitori di concorso e candidati presenti nelle GAE però ci sono due incognite la denatalità e la situazione degli insegnanti di sostegno precari dunque i 200 docenti in ruolo non bastano ne servono di più almeno 500 la ripartizione poi che ci spiega il Carlino 11 arrivano nell'infanzia 19 nella primaria 31 nelle ex medie 90 nelle superiori 49 seguiranno alunni con disabilità una però un numero del tutto insufficiente secondo Ugo Barbi segretario provinciale dello SNALSA anche quest'anno afferma si ripete il copione degli anni precedenti poiché è vero che si fanno assunzioni in ruolo ma i vuoti negli organici sono superiori dunque questo significa che dal 29 agosto data fissata per assegnare gli incarichi a tempo determinato dovranno essere nominati nelle scuole di diverso ordine grado almeno 500 supplenti quindi ancora 500 insegnanti di cui bisognerà andare alla ricerca ed ora restiamo a macerata ma ci spostiamo ancora più avanti a Civitanova nella mia rete una femmina di granchio blu questa è la denuncia di un pescatore di Civitanova e la terza che ho catturato nel corso di questa settimana era piena di uova ma causano più danni i delfini si continua dunque a parlare del cambiamento climatico e quindi dell'invasione nei nostri mari di nuove specie del granchio blu ne abbiamo già raccontato ma questa è una nuova denuncia che arriva da Civitanova Marche ed ora invece ci spostiamo nel pesarese e andiamo sul corriere adriatico dove è il nuovo ospedale in primo piano si parla di sanità dopo il sit-in di protesta di ieri davanti al San Salvatore da parte dei genitori contro la chiusura del centro nascita e del reparto di pediatria e ginecologia nessun cambiamento prima del progetto di muraglia ma Baldelli e Bagliocchi non ci stanno e assicurano appalto pronto i lavori da fine settembre 2024 allora andiamo a vederla questa notizia per raccontarvi appunto della protesta delle mamme e dei genitori in particolare sit-in di protesta in difesa di pediatria e dei servizi psichiatrici cartelli e slogan per un centinaio di persone si sono ritrovati tutti ieri proprio davanti all'ospedale genitori e non solo interventi anche dei politici applausi per l'ex primaria catalano ed eccole le mamme che hanno sollevato il problema della pediatria e poi insieme a loro alcuni rappresentanti politici dicevamo in particolare Frenquellucci Biancani e Vitri che hanno manifestato insieme siamo qui senza bandiere hanno detto perché la nostra non è una protesta politica e questo insomma è un problema su cui i genitori non vogliono ovviamente rinunciare su cui continueranno a protestare nuovo presidio a muraglia la gara d'appalto è in arrivo però l'assessore Baldelli conferma il cantiere per l'ospedale da fine settembre 2024 questa è la notizia principale del Corriere Adriatico di Pesano apriamo insieme però anche il Carlino anche qui in primo piano la protesta delle mamme e dei genitori nessuno tocchi pediatria mamme papà e politici in tanti al sit-in nonostante le garanzie della regione arrivate negli ultimi giorni che ha detto non ci sarà chiusura del reparto di pediatrie del punto nascita ma in primo piano anche la cronaca schianto di notte muore in scooter la tragedia fosse signore la vittima il fanese Luca Rulli di 59 anni metalmeccanico con l'hobby della lirica una terribile tragedia e poi sempre per la cronaca andiamo a Vallefoglia la notizia di cui vi abbiamo dato conto anche noi sul nostro sito mi butto dal balcone ore di trattativa per un uomo che oltre a minacciare il suicidio aveva minacciato di dar fuoco a tutto il condominio poi nella notte la paura è finita queste dunque le notizie abbiamo ancora pochi secondi per dare uno sguardo anche al meteo come possiamo vedere grandi nei nubi fragili al centro nord ma da noi per oggi sarà ancora sole caldo e a fa poi dai prossimi giorni arriverà invece un po' di refrigerio anche sulla nostra regione perché le temperature si abbasseranno a partire appunto da lunedì per poi proseguire insomma in modalità più bassa addirittura anche con un po' di pioggia da martedì noi ci fermiamo qui ma torniamo tra pochi istanti a partire